ciao a tutti i yogabondi i yogabondi originali solo in azione siamo infatti in giro per villa fames un paesino bellissimo in cima a una collina ve lo faccio vedere vi faccio vedere che stradine meravigliose anche l'artigianato qui è stupendo e anche il castello a presto ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti